Io stimo il generale Vannacci, è un uomo che ha difeso l'onore dell'Italia nel mondo, ha salvato vite, ha portato pace e quindi che sia accusato, diffamato, sospeso, giudicato, processato, mi sembra indegno per un servitore dello Stato, mi farebbe molto piacere che si unisse alla Lega per l'obiettivo comune che è cambiare questa Europa. Questa Europa così com'è, lo dicono i trattori ma non solo i trattori, non funziona, bisogna ribaltarle, serve gente competente, coraggiosa, libera e quindi mi farebbe molto piacere che il generale come altri indipendenti senza tessere della Lega in tasca ci aiutassero a fare questa battaglia di libertà.